La nota casa di moda parigina Céline ha puntato per la sua nuova campagna pubblicitaria per la collezione Primavera-Estate 2015 sul Volto e sul Carisma di Joan Didion, scrittrice americana di grande spessore e ottantenne. Ebbene sì, la signora in questione è una delle più note saggiste degli Stati Uniti, una vera icona degli anni 70 con enormi successi letterari. Non è la prima volta che una casa di moda punta sull'immagine di donne oltre i 50 anni, come ad esempio la bella e brava attrice Ellen Mirren o la sempreverde Jane Fonda, ma Céline ha dalla sua il fatto che Joan sia completamente estranea al mondo dello showbiz. Negli scatti del celebre fotografo Jürgen Teller, la Didion appare eterea ed elegante, nascosta dietro occhiali scuri, con un caschetto di capelli bianchi e minimal in un dolce vita nero. La forza del suo carisma è incontenibile. Chissà che altre case di moda non seguono l'esempio di Céline e non diano spazio una volta tanto anche a chi non rispecchia propriamente gli standard classici della top model, ma che in compenso abbia veramente qualcosa da raccontare.